Mentre gli amici di Gesù e le donne che lo avevano seguito dalla Galilea osservavano da lontano, Maria stava ai piedi della croce col suo carico di dolore ed amore. Quello stesso amore ostinato Cristo lo donava, in Giovanni, alla sua chiesa. O Maria, come il discepolo da quel momento ti prese con sé, così noi t'accogliamo come Madre Santa.